Ciao ragazzi, allora prendo qualche minuto di tempo per condividere con voi, c'è posto per me da Los Angeles, guardate qui, Active Work Team 2020, guardate qui. Per gli addetti lavori sapete che cosa vuol dire? La qualifica Active da tab, la cosa bellissima sono sempre le parole scritte, oltre al valore economico che può avere questa qualifica, però c'è scritto grazie per quello che fai, perché, aspettate ve la leggo, la tua passione porta ad ispirare il tuo lavoro, porta ad ispirare altre persone a costruire basi per un futuro solito. Grazie per essere un distributore che fa la differenza nel voler cambiare la vita delle persone, è qualcosa di magico, la nostra azione è qualcosa di incredibile, ragazzi credeteci, credeteci, non mollate mai, credete in questo sogno perché potete ottenere tutto quello che volete, abbiamo la migliore opportunità a prova di Covid, incredibile, possiamo veramente fare tantissimo, a volte facciamo troppo poco rispetto alla grandezza dell'azienda, Io sono emozionatissima, grazie, grazie a tutto il team, grazie a tutti quanti perché Herbalife è un successo comune, è uno sport di squadra e non vedo l'ora che tutti quanti possiamo essere delle stelle aziendali, dei tab team e andare verso il president team perché è un viaggio incredibile che meritiamo tutti quanti. Grazie! Grazie a tutti! Grazie a tutti!